Proroga scaduta per quanto riguarda la richiesta da parte dei commercianti e la richiesta dei ORS. Sono pervenute molte domande? Sì, più di 80 domande. Siamo a buon punto con le lavorazioni. Per la sovrintendenza le richieste di paesaggistica che ci sono arrivate sono partite quasi tutte, sono rimaste meno di 10 da mandare in sovrintendenza. Sono iniziati ad arrivare anche le prime risposte e quindi diciamo che la cosa sta andando avanti. Ovviamente i tempi sono quelli che sono, proprio data l'enorme mole di domande presentate. Poi bisogna pensare che non è una domanda di rinnovo ma sono domande di installazione ex novo. Quindi va impiantata tutta la procedura per la quale negli anni passati a volte ci sono voluti anche anni. Noi stiamo accorciando i tempi proprio al minimo e ci stiamo riuscendo. Quindi siamo a buon punto. Visto l'imminente arrivo dell'estate, anzi visto l'arrivo dell'estate, quindi i commercianti possono dormire ai sogni tranquilli? Sì, io penso che nel giro di qualche settimana si risolva per la stragrande maggioranza dei commercianti, tranne per quei casi in cui ci sono problemi particolari. In consiglio comunale fu approvata la proroga. La proroga è stata necessaria quindi per quanto riguarda i commercianti, per quanto riguarda la richiesta? Sì, in realtà la proroga è stata fatta per alcuni casi specifici perché in realtà quasi tutti avevano già presentato l'istanza. Quindi già da prima che facessimo la proroga, bene o male, la lavorazione delle pratiche già era partita.